No, 26 spettatori! Oh mio Dio! Oh mio Dio! 30 spettatori! Ma cosa cavolo stai dicendo? Fa ma non li ho mai fatti! No, 26 spettatori! 20 minutes later Bro qualcuno mi sta raidando! Bro qualcuno mi sta raidando! C'è Ciccio! Come bro c'è Ciccio? No, speriamo di no che non sia Fieric! Speriamo che non sia Fieric! Perché mi ricordo soltanto Sizzio Ricco! Sizzio Ricco! 32! 32 in live! Rega per favore iscrivetevi tutti al canale! 33 in live! Rega per favore iscrivetevi tutti al mio canale! Per favore rega! Siamo 34 in live bro! 34 in live rega! Vabbè! Rega per favore iscrivetevi tutti al canale! Iscrivetevi tutti al canale per favore! Hanno parlato ieri sera di Telti G! Simon sono... Io sono... Madonna mia! 5 isperfetto! Bravo! Allora Simon sono Arcangelo Zero! Bro hai presente Franco? Mettimi il volentore su! Bro forse ho avuto il ride! Credo di aver avuto il ride bro! Non ti ricordi ieri sera? Quello che ti ha salutato? Ah vero! È vero Luke! Franco! Quello che ho visto su YouTube è quello che avevo detto che per me è simpatico e questo quindi l'ho seguito su YouTube Luke! Non ho capito! Chiama anche Franco! Perfetto! Ragazzi nel frattempo c'è una mappa di edito almeno vi intrattengo un po' che da! No! 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 15 spect! Bella Luke! 20 spect! Come 20 spect! Si vabbò! Oddio! Vayu! Vayu 20 spect! Veramente! 26 spect! Ciccio in live! È impossibile che mi sta sponsorizzando Ciccio! Me ne vado Vayu! Non ci credo Vayu mi sta sponsorizzando Ciccio game se non sbaglio! 62! 63! 63! No io non ci credo! 86 spect! Vayu e Ciccio per forza! Luke chi è che mi starei dando? È su Split che... Split? Che cosa è Split? È una nuova piattaforma di streaming? Si può scaricare? È un'app? Io non ho capito che manco che è Split! Ciccio guardami! Cerca Ciccio game se vediamo... Su Split? Perché tu c'hai Split? No! Sta su Split lui! Fra dove si scarica Split che vorrei vedere? Siamo in 40 in live! Aspetta no! Cerco io direttamente da Chrome sul computo! Split! E poi devo andare su Sissi o Gamer! Ma Split è un film! Sissi o Gamer! Abbiamo 110 spect! Madonna! Neanche Vap fa 110 spect! Hai 150 spect! Prendi il martello! No veramente ragazzi! Lo faccio veramente! Giuro che lo faccio! Giuro che lo faccio! Prendo il martello! Spacco tutta la casa! Spacco tutta la casa! Tutta! Cioè ragazzi poi gli dico a mia madre! Eh sì mia madre! Madre madre! È una... È una... È una... Per il finale per il 150 spect! ragazzi! Comunque! 151... Non esiste! Non esiste ragazzi! Ragazzi! Vado a prendere il martello! L'ho detto! L'ho detto! Una promessa! Una promessa!